Si intitola Gela, le radici del futuro, lo spettacolo teotrale dello scrittore e sceneggiatore Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo e Fran Carame, che sarà portato in scena domani al Teatro Eschilo di Gela con il patrocinio della regione siciliana, del Museo archeologico, dell'amministrazione comunale e dell'ENI. Si tratta di un monologo con cui l'autore ripercorre la storia di Gela, definita la Londra dell'epoca ellenistica, dalla sua fondazione, VII secolo a.C., al periodo di Federico II, ai giorni d'oggi, con il supporto documentale di foto e di video. Sarebbe bello e utile per la città creare delle iniziative costruendo un gruppo di giovani, formandoli e utilizzando il teatro come strumento per raccontare la città di Gela, come strumento per sviluppare poi la notorietà di Gela, la visibilità per cui il turismo, per cui i posti di lavoro, eccetera. In questo momento io vengo qui per vedere se questa cosa può interessare. ENI mi ha dato la possibilità di fare questo test, questa indagine e vediamo se ci fosse interesse e sarebbe bello fare questo tipo di lavoro. È l'inizio di un progetto di collaborazione di Jacopo Focco nella società giolese, promosso dall'ENI alla ricerca di idee, proposte, suggerimenti e di un lavoro d'insieme storico, etnico, culturale, già avviato con scuole ed associazioni per la formazione di un gruppo creativo da cui potrebbero uscire iniziative di ogni tipo. Un libro, una commedia, un documentario, un film, promozioni turistiche, pacchetti di offerte per itinerari del turismo in Sicilia che prevedano una tappa a Gela. Io sono venuto qui a Gela 21 anni fa con mia moglie in viaggio di nozze, mandato da mio padre proprio a forza perché io ero andato a Grigento a vedere i templi e dicendo vai lì che c'è una nave greca straordinaria. Io sono arrivato qua, il museo era chiuso da non so quanti anni, non c'era nessuna possibilità di vedere questa nave e così mi è sempre restato questo punto interattivo di questa strana città che ha un patrimonio incredibile e che non lo rende visibile, per cui quando mi è stata proposta la possibilità di fare un'iniziativa culturale qua mi ha molto interessato anche perché Gela io credo che più che avere una cattiva fama non è conosciuta.